Ora ci sarà la cerimonia dell'Alza Bandiera accompagnata dalle note dell'Inno Nazionale d'Italia, ci alziamo i fili alle note dell'Inno Nazionale Italiano con la cerimonia dell'Alza Bandiera. La cerimonia Bene, è adunque la cerimonia dell'Alza Bandiera e ora il rito un ufficiale proseguirà con il taglio del nastro per l'inaugurazione del Sardegna Grand Tour, la prima iniezione di questo magnifico evento, la cerimonia solenne dell'Italia del nastro, abbiamo in campo il nomevole Salvatore Meida, Presidente della Commissione dei Trapporti della Camera dei Deputati, l'Avvocato Giuseppe Marciotta, Assessore allo sport del Comune di Caglia, delegato dal sindaco Dottor Massimo Zetta, che insieme a Silvia Giuseppe Luizia, organizzatori del concorso unico internazionale di Tagliari, il Sardegna Grand Tour e la signora Adriana Cardotto, Presidente della giuria di Caglino, e il Sardegna Grand Tour e l'Avvocato Giuseppe Luizia, e il Sardegna Grand Tour e l'Avvocato Giuseppe Luizia, E il Sardegna Grand Tour e l'Avvocato Giuseppe Luizia, Grazie a tutti.